oggi si fomera anche un giorno a Pasqua, poi si apre oggi questi luoghi in Pasqua iniziamo da questo, abbiamo fatto due due affrentina, sono per un grande sfuso apriamo così, vediamo che ci piace ecco, ecco, ecco ecco E' una cosa? Ah, unico il mio. Il mio. Quero. D'unico il mio? Cosa? D'unico il mio? Vabbè, provo ad assaggiare. Buonino. Allora per questo. Ecco lì, così. Trovato un poster, non so, un po' non so, due etichette. Non so, due eichette. 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 Non ho capito molto. Sì, sarà quel tipo di sticker. Poi questo. Che poi è anche girato così. E poi 100% viola. Non so, due eichette. 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 Anche il femmine. Non so, due eichette. Non so, due eichette. E' anche il femmine. Non so, due eichette. Non so, due eichette. Non so, due eichette. Così, così. È un formino. ci ho trovato formato ma non devo fare qualcosa però vabbè quindi facciamo così ciao